Carpe Diem, albergo ristorante. A soli 40 minuti da Roma e da Perugia, Carpe Diem è una struttura capace di soddisfare un'esigenza turistica e professionale. L'hotel dispone di camere insonorizzate e climatizzate, dotate di bagno interno, telefono diretto, tv satellitare, frigo bar. Il ristorante è in grado di accogliere più di 400 persone ed è particolarmente organizzato per pranzi di lavoro e banchetti. La sala convegni, con ben 200 posti, dispone dei più moderni impianti. Videoproiettore, schermo elettrico, impianto di videoconferenza, lavagna luminosa, impianto tv cc per la presidenza, amplificazione e diffusione sonora, traduzione simultanea, proiezioni diapositive, registrazione audio e video, videoproiezione e possibilità di proiettare su grande schermo. Carpe Diem è il luogo ideale per trascorrere un periodo di relax o per organizzare meeting, convention o altri eventi congressuali. La sua posizione strategica permette di raggiungere in breve tempo le località turistiche più importanti del centro Italia. www.hotelcarpe diem.it